Musica Quanti di voi credono che le donne siano portate per le discipline scientifiche quali la matematica, la fisica e l'ingegneria quanto gli uomini Alzate la mano per favore La maggior parte di voi quindi Ma siete veramente sicuri di questo? Siete veramente sicuri che nella vostra mente uomini e donne siano associate nella stessa maniera alle discipline scientifiche? Voglio fare insieme a voi un test in cui vi dimostrerò che in realtà voi non avete consapevolezza delle vostre vere credenze cioè delle credenze che sono codificate nella vostra mente In questo test dovrete classificare delle parole all'interno di quattro categorie dicendo destra o sinistra Qui potete vedere le diverse parole e le quattro categorie di appartenenza Il test si divide in due parti Nella prima parte dovrete dire la parola sinistra se la parola che vi compare al centro dello schermo appartiene alle categorie discipline umanistiche o femmine Doverete invece dire destra se la parola appartiene alle categorie discipline scientifiche o maschio Quindi ad esempio se vi compare la parola Laura dovrete dire Sinistra Perfetto Se vi compare la parola Marco Destra Se compare la parola fisica Destra Perfetto E se compare la parola arte Ok Allora facciamo alcune prove prima di passare al test vero o proprio Ok vi ricordo Sinistra è disciplina umanistica e femmina Destra è disciplina scientifiche e maschio Pronti? Via Ok Diciamo che ci siamo Ho visto qualcuno lì in fondo che si guardava intorno per capire se doveva dire destra o sinistra Ecco non vi preoccupate è normale commettere qualche errore Allora passiamo al test vero e proprio Vi ricordo ancora Sinistra per discipline umanistiche e femmina Destra per discipline scientifiche e maschio Pronti? Via Benissimo Allora siete state abbastanza veloci avete ottenuto un tempo di risposta medio intorno ai 700 millesimi di secondo Passiamo ora alla seconda parte del test Allora anche qui vi verranno presentate le stesse parole di prima Vediamo se riusciamo a vedere Eccolo qua Perfetto Quindi stesse parole di prima Ma questa volta dovrete dire Sinistra se la parola appartiene alle categorie discipline umanistica o maschio Destra invece se queste parole appartengono alle categorie discipline scientifiche e femmina Ok non vi preoccupate Anche qui facciamo alcune prove prima Ok? Allora vi ricordo Sinistra è disciplina umanistica e maschio Destra è disciplina scientifiche e femmina Ok? Pronti? Via Sinistra 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 Più o meno ci siamo anche qui Passiamo all'ultima parte Quindi vi ricordo ancora Sinistra è disciplina umanistica e maschio Destra è disciplina scientifica e femmina Pronti? Via Destra Sinistra Sinistra Esca Esca Sinistra Sinistra Esca Esca Sinistra Esca 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 Ok Allora questa volta i vostri tempi di risposta i medi sono intorno ai mille millesimi di seconda Quindi come potete notare siete stati diciamo meno meno veloci in questa seconda parte del test rispetto alla prima parte del test. Cosa significa? Significa che per voi è più semplice associare il concetto femmina con discipline umanistiche e maschio con discipline scientifiche anziché il contrario. Questo suggerisce quindi che nella vostra mente esiste uno stereotipo di genere implicito, cioè di cui voi non avete consapevolezza e che vi porta ad associare maggiormente il concetto di discipline scientifiche all'essere maschio all'anziché essere femmina. Anche io, come voi e come la maggior parte delle persone mostro questo stereotipo. Ricordo ancora la prima volta che ho fatto questo test e ho ottenuto questi risultati. Quindi mi sono chiesta ma com'è possibile? Com'è possibile che io, che sono una ricercatrice e che credo fortemente che donne e uomini abbiano le stesse competenze in ambito scientifico, mostrare questo tipo di stereotipo? Ero veramente sorpresa di scoprire questo lato nascosto della mia mente. Ma in realtà lo stereotipo di genere in ambito scientifico è solo un esempio di diversi stereotipi e pregiudizi che possono essere contenuti nella nostra mente. Nella nostra mente possono essere contenuti stereotipi e pregiudizi legati a diverse caratteristiche sociali. Quale ad esempio il colore della pelle, l'etnia, l'orientamento sessuale, politico, religioso, il peso, l'età, la malattia fisica, la disabilità e la malattia mentale. Ma quali sono le conseguenze di questi pregiudizi e stereotipi inconsci? La ricerca scientifica ha dimostrato che questi pregiudizi e stereotipi influenzano il nostro modo di percepire e di rapportarci con gli altri. Ad esempio, uno studio pubblicato sulla nota a rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ha dimostrato che la scelta di un candidato maschio rispetto a un candidato femmina per un compito aritmetico a parità di competenze e qualifiche professionali è proprio legato allo stereotipo di genere in ambito scientifico. Ma addirittura ricercatori dell'Università di Harvard hanno dimostrato che il pregiudizio etnico-raziale influenza addirittura le decisioni dei medici e delle altre figure professionali in campo sanitario. In particolar modo è stato dimostrato che medici che mostrano forte preferenze per le persone bianche rispetto a quelli di colore raccomandano meno spesso trattamenti terapeutici per quest'ultimi, nonostante essi mostrino le stesse condizioni di salute e bisogno di cure di pazienti bianchi. Ma allora come possiamo far sì che il nostro comportamento sia libero da tali pregiudizi e stereotipi inconsci? Come possiamo far sì che il nostro agire sia più in linea con quelle che sono le nostre credenze, le nostre intenzioni a livello consapevole? Negli ultimi anni molti hanno riconosciuto tali necessità. Compagnie e aziende come Google, Facebook, Starbucks, università come Harvard e persino dipartimenti di polizia, come quello di New York per esempio, hanno creato dei corsi per i propri dipendenti, delle lezioni teoriche, altre creare una consapevolezza dell'esistenza di questi pregiudizi e stereotipi inconsci, di come essi operino e influenzino il nostro comportamento. In particolare negli ultimi vent'anni i ricercatori hanno cercato di creare degli interventi, delle strategie che vadano proprio a ridurre questi pregiudizi e stereotipi. Ad esempio è stato dimostrato che è possibile ridurre il pregiudizio etnico e razziale presentando delle informazioni che vanno contro lo stesso stereotipo, come ad esempio uno scenario relativo ad un'aggressione in cui una persona bianca interpreta il ruolo dell'aggressore e una persona di colore interpreta il ruolo del soccorritore. Questi interventi però, nonostante si siano dimostrati efficaci, hanno prodotto solo risultati alimentati, soprattutto in termini temporali. I loro effetti infatti durano per poche ore o giorni. L'idea che sto portando avanti con la mia ricerca è che questi pregiudizi e questi stereotipi siano talmente instillati nella nostra mente che per poterli modificare dobbiamo cambiare quelli che sono i meccanismi biologici all'interno del cervello che li formano e li mantengono. In particolare la mia ricerca è volta verso l'introduzione di una nuova tecnica chiamata stimolazione cerebrale non invasiva, tecnica appartenente a un differente campo scientifico, quello delle neuroscienze. Le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva sono delle tecniche considerate sicure che permettono, inducendo delle piccole correnti elettriche all'interno del cervello, di andare a modificare quelli che sono i meccanismi biologici che sono responsabili di produrre e controllare il nostro comportamento. Studi che hanno iniziato a utilizzare questa tecnica nel campo degli stereotipi hanno permesso di delineare delle specifiche regioni del cervello che sono coinvolti in questi processi. Regioni che sono conosciute per svolgere funzioni di tipo percettivo come l'area del corpo esterastriato ad esempio o aree che sono coinvolte in processi legati alle decisioni in ambito morale come il lobo parietario inferiore, aree legate a processi di controllo come la corteccia profrontale e aree invece legate alla memoria di tipo semantica come il lobo temporale anteriore. Ma questi studi soprattutto hanno permesso di dimostrare che andando a aumentare o diminuire l'attività di alcune di queste aree come ad esempio il lobo temporale anteriore è possibile ridurre gli stereotipi come quello di genere in ambito scientifico ma anche il pregiudizio che lega l'essere arabo al terrorismo rispetto a non esserlo. Ok, vedo qualche faccia allibita e magari qualcuno può pensare in questo momento che io voglia fare una specie di remake del film di Kubrick che è arancia meccanica a cominciare a fare il lavaggio del cervello alle persone. Beh, per essere onesta a me effettivamente i film di Kubrick mi sono sempre piaciuti in particolar modo quel film ma voi dovete sapere che in realtà le tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva nonostante siano delle tecniche relativamente sconosciute nel campo degli stereotipi sociali sono molto diffuse in ambito clinico vengono utilizzate ad esempio per la diagnosi di disturbi legati al sistema motorio come ad esempio dopo uno stroke o per il trattamento di disturbi neurologici e psichiatrici come il dolore neuropatico cronico, il Parkinson, la depressione. In particolar modo è stato dimostrato che queste tecniche sono molto efficaci nel trattamento della depressione farmacoresistente cioè in quelle situazioni in cui il farmaco non riesce a produrre benefici per il paziente. Questi studi hanno dimostrato che andando a stimolare una particolare area del cervello cioè la corteccia prefrontale dorso-laterale è possibile ridurre nel 60% di questi pazienti i sintomi depressivi tanto che un terzo di loro dimostra addirittura una remissione completa della malattia. In una società come la nostra dove la globalizzazione ha portato alla coesistenza di differenti gruppi sociali e culturali le tecniche di stimolazione cerebrale non evasiva possono arrivarsi fondamentali per far sì che il nostro comportamento sia libero da pregiudizi e stereotipi soprattutto in quei contesti, come abbiamo visto dove questi possono produrre seri conseguenze ma non solo per questo queste tecniche potrebbero essere utilizzate per andare a ridurre i pregiudizi e gli stereotipi che ci riguardano in prima persona e influenzano la nostra vita. Infatti è stato dimostrato che i pregiudizi e gli stereotipi non influenzano solo il nostro modo di rapportarci con gli altri ma possono influenzare anche la nostra stessa prestazione. uno studio che ha analizzato dati in 34 nazioni per 8 anni ha dimostrato che la prestazione di ragazze di 13-14 anni in compiti di matematica e nelle altre materie scientifiche è strettamente legata alla forza dello stereotipo di genere in ambito scientifico. questi risultati suggeriscono quindi che gli stereotipi possono influenzare e precludere potenzialmente la nostra partecipazione in specifici settori lavorativi o di ostacolare quelle che potrebbero essere le nostre potenzialità e quelle delle future generazioni. l'introduzione quindi delle tecniche di stimolazione cerebrale non evasiva potrebbero portare finalmente allo sviluppo di una società libera da questi pregiudizi volta a potenziare solamente il talento di loro cittadini verso la scienza e il progresso. Grazie Applausi 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 Applausi